I lavori di rifacimento dell'asse attrezzato che collega Pescara a Chieti hanno comportato tantissimi disagi per la popolazione, per i cittadini e per chi veniva a Pescara. Il Comune è intervenuto con un cronoprogramma come si svolgeranno i lavori, quando riaprirà l'asse? Il Comune di Pescara è intervenuto immediatamente all'oscuro di ogni iniziativa e di ogni programmazione congiunta con l'ANAS e con la ditta a cercare di ripristinare al meglio la situazione. Nella riunione che abbiamo tenuto nella giornata di ieri mattina abbiamo concordato e preteso che una parte dei lavori venissero svolti in ore notturne, serali, in modo da gravare il meno possibile alla fluidità del traffico. E per altri aspetti, per quanto riguarda le rampe di accesso, farle in maniera alternata, sempre per limitare il tutto. L'ultima cosa è quella della informazione. Ieri abbiamo dato la comunicazione più esaustiva possibile, abbiamo chiesto alla ditta e ottenuto dalla ditta la posizione dei cartelli dei percorsi alternativi e comunque nella giornata tra giovedì e venerdì il grosso del disagio dovrebbe essere superato. Per quanto riguarda i lavori in Piazza Unione, quando finiranno? I lavori in Piazza Unione sono ancora un po' lunghi, nel senso che si è terminata soltanto la parte a sud della piazza, rimane tutta la rotatoria sull'asse centrale e anche qui stiamo cercando di capire come poter creare o disciplinare una mobilità che viene completamente stravolta. Non è il primo caso e non sarà neanche l'ultimo di lavori che hanno avuto una programmazione soltanto sulla carta, ma che poi non hanno un riscontro oggettivo su quelle che sono le risultanze effettive sul traffico che lì si andrà a incanalare.